conosciuto da tutti e abbiamo avuto modo di parlarne anche di recente. Io credo che un Governo serio, che tenga il bene del Paese e ha davanti un Parlamento responsabile da questo punto di vista, abbia un dovere dirci molto chiaramente e rapidamente cosa intende fare, perché ha portato a spasso l'Italia per un anno dicendo che era davanti all'Unione Europea a cercare una soluzione. Davanti all'Unione Europea ci siete stati per un anno e la soluzione che avete trovato è stato il fallimento di quattro istituti di credito. Questo non è il modo in cui ci si deve rapportare. Noi ci auguriamo, peraltro, che la futura riforma annunciata delle banche di credito cooperativo, che dovrebbe essere allineata all'autoriforma prodotta, sia ben diversa da quelle popolari e invece in grado di dare una soluzione e evitare possibili fallimenti anche sotto quel punto di vista. Il Paese ha bisogno di tranquillità, il Governo continua a non dargliela. Grazie. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione 3.902, onorevoli Pesco ed altri, sulle iniziative di competenza per l'eventuale revoca dell'incarico di Governatore della Banca d'Italia e al Presidente della Consob, onorevole Villarosa, a facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per un minuto. Prego. Grazie, Presidente. Consob non ha vigilato e normato attentamente gli strumenti venduti sul mercato. Banca d'Italia autorizza aumenti di capitale nel 2012 e nel 2015. Gli azionisti perdono tutto in soli tre anni. Scopriamo ogni ora di nuovi scandali, prestiti facili, obbligazioni inserite nei mutui, autorevolezza dei manager usata come strumento coercitivo, operazioni anomale su Etruria poco prima del DL Popolari, operazioni anomale su Etruria durante il DL quattro banche. Su Popolare di Spoleto il Governatore di Banca d'Italia è stato indagato per truffe e altri reati e la Corte ha dichiarato illegittimo il decreto di commissariamento su Banca Popolare di Spoleto. Quella vicenda che ci ha chiarito che voi praticamente al Ministero non guardate neanche le carte. Il dubbio più grave però è che non conosciate neanche la legislazione, perché ci avete detto che il fondo interbancario non era utilizzabile ed è falso perché è previsto dal TURB. Ci avete detto che lui vi ha negato l'utilizzo ed è falso perché l'ha dichiarato lui. Ci avete detto che il Belin era in vigore, invece il Belin entra in vigore il 1 gennaio 2016, così recita l'articolo 106 del DL.